La parola d'ordine e il rinnovamento. Un rinnovamento che non è chiaramente l'indirizzo di programma politico. Avevamo promesso e garantito che sarebbero stati dei molti nuovi alla giunta municipale di Biceglie e come avviene sempre le promesse sono state mantenute. Oggi è un giorno particolare perché avevo detto ai cittadini biceglesi in campagna elettorale che sarebbero stati 17 i consiglieri di maggioranza, che avremmo festeggiato il 17 la vittoria, nel senso scorso abbiamo festeggiato, si sono avuti i voti definitivi proprio in quella data e oggi è 17 e voglio fare questa conferenza strava che era già pronta a livello di strutturazione del nuovo esecutivo cittadino e che oggi presentiamo ufficialmente alla città. Non ringrazio i cittadini biceglesi perché grazie all'ombroforza oggi ci consentono di fare il tuo contene con la giunta, ci consentono di affrontare i prossimi passaggi strategici in termini di opere pubbliche che stiamo realizzando, in termini di servizi, c'è una gara oramai che è ripandita tra poche ore, tra poche giorno, non l'avrà pubblicata, quella dell'ingegno urbano che ci riederà risolvere anche con l'alloso problema. Quindi tante scelte importanti che si fanno con più facilità perché il mandato dato al sindaco e alla sua coalizione che ha preso anche una percentuale, questo è un fatto importante, altissima che ha prodotto addirittura lezioni 17 consiglieri comunali, fatto storico in questo periodo da una città, da una comunità. Per questo significa che dobbiamo superare le logiche magari importanti anche nella politica. Io penso che il contributo che noi cercheremo, che tu cercherai come sindaco, che gli assessori cercheranno specialmente con i nuovi alla prima esperienza, cercheranno, non sarà solo la considerazione e il rapporto con la politica. Quello è utile, ma non è il solo e non è indispensabile. Quello che loro dovranno e che dovremo tutti quanti cercare è quello che abbiamo fatto in questi anni. Il rapporto con la città, il confronto con i cittadini, con le associazioni, con le categorie, con coloro che con noi devono realmente, fortemente lavorare per far sì che un momento difficile da un punto di vista generale possa diventare, come è stato per Viceglie, un momento non drammatico, ma certamente un momento al quale abbiamo saputo dare risposte giuste con quello che abbiamo fatto in questi anni. Sous-titrage Société Radio-Canada